Siamo in consegna, car tablet dedicato a Kia Sportage, ricordiamo che questa macchina ha anche l'amplificatore originale, subwoofer e questa è la nostra offerta, car tablet, 10 pollici, Android 10, 4 giga di RAM, ROM 64 giga andiamo a recuperare comandi al volante, retrocamera, amplificatore originale, abbiamo recuperato tutte le macchine andiamo in dimostrazione qui siamo in gestione audio e video tramite le USB qui è gestione audio io voce bluetooth, streaming musicale e poi passiamo a tutte le app della home DSP, processore sonoro, per andare a fare tutti i settaggi audio possiamo fare ricerche su internet il cliente potrà gestire anche la gestione vocale tramite il Play Store potete scaricare le app tutte presenti nel Play Store e usarle tranquillamente possiamo eseguire anche la funzione split screen che permette di inserire due app in contemporanea possiamo eseguire anche la funzione split screen che permette di inserire due app in contemporanea ricordiamo che i nostri prodotti hanno anche la funzione Apple CarPlay e Android Auto senza fili il cliente a seconda dello smartphone che ha potrà gestire tramite questa applicazione sia Android Auto che Apple CarPlay qui stiamo visualizzando la retrocamera originale e poi possiamo entrare nelle caratteristiche e vedere che è un Android 10, 4 GB di RAM e ROM 64 GB PX6 versione Android 10 ricordiamo che i nostri prodotti sono disponibili online e su presto il nostro e-commerce possiamo anche spedire e dare assistenza da remoto un saluto a tutti voi grazie grazie